Annullate le tradizionali fiere di Borgo Giannotti che saranno rinviate al 2021, presumibilmente vicino alla data del 3 maggio, festività dell'invenzione della Santa Croce. Il Comune di Lucca fa così marcia indietro e in una nota fa sapere di aver fatto tutto il possibile per non rinunciare alle popolari manifestazioni del settembre lucchese, nonostante l'emergenza sanitaria. Ma precisa che l'organizzazione di una fiera così grande, con l'aggravarsi, seppur ancora contenuto della situazione epidemiologica, getta incertezze sulle restrizioni e sulla logistica di questo tipo di eventi. Contrariamente quindi a quanto annunciato solo pochi giorni fa, il 26 agosto, l'amministrazione non conferma le date di lunedì 14, giovedì 27 e sabato 29 settembre, su un circuito più grande e articolato che avrebbe comunque escluso Borgo Giannotti per la ristrettezza degli spazi.